Credo che sia proprio un momento di rinascita in termini di condivisione di emozioni, in termini di bellezza del calcio, in termini di passione, quindi veramente non vedevamo l'ora tutti quanti. Speriamo che sia solo l'inizio di un percorso che porti già ad iniziare la prossima stagione almeno con un 50% e poi di lì mano a mano a non avere più limiti. Credo che proprio il discorso degli stadi, dell'afflusso molto limitato, così limitato, sia qualcosa di profondamente sbagliato e quindi con me sfondi proprio con un cancello aperto. Credo che si doveva e si poteva fare in modo diverso già da mesi. Arrivati a questo punto, questo discorso dei mille in stadi per esempio come noi di Agopone, ma anche come altri stadi, credo che sia veramente un for di logica. È una di quelle cose che io non capisco, probabilmente molti non capiscono e non capiamo, ed è una di quelle cose però sulle quali dovrebbero riflettere le istituzioni. La prima notizia bella è che il Nardò ritroverà il proprio pubblico, un po' come tutte le squadre di Serie D. Sono circa 800 gli spettatori, abbonati inclusi, che potranno assistere al match contro il Bitonto al Giovanni Paolo II. Intanto però ci sono i play-off da conquistare e secondo il presidente Salvatore Donadei sei punti potrebbero anche bastare. Secondo me sei punti bastano, però sarà un'impresa a farli, perché tra Bitonto e Cerignola sarà veramente tanta tanta roba. Però io voglio sottolineare questo aspetto, l'ho detto prima, ma lo voglio ripeto proprio sottolineare e cristallizzare bene. Noi comunque vadano le cose, avremo fatto un campionato bellissimo.